Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua su Gigi Conline Ragazzi oggi stiamo camminando qua Normalmente perché ragazzi sono appena caduto dall'aereo Quindi sono appena atterrato qua Perfetto ragazzi oggi sono qua per farvi vedere Allora prima di tutto un attimo una cosa Allora ho deciso di comportarmi bene Cioè ogni volta ammazzavo la gente così ragazzi pam pam Solo prendevo la pistola ammazzavo Ammazzavo gli altri così ragazzi Però ho preso la decisione di non ammazzare e non fare più niente in Gigi Conline Quindi ragazzi farò delle gare e ve le porterò Poi deciderò più avanti Cosa fare? Datemi delle idee voi in questo video nei commenti È un aggiornamento di Gigi Conline Avete già letto nel titolo Ve lo ridico Vabbè c'è scritto comunque Perfetto sto camminando dietro questo qua Perché Vabbè ragazzi Per prendere delle auto posso rubarle Le vado a prendere questa qua che so già qual è L'avevo già vista Non so perché sono entrato di qua Però perfetto va benissimo comunque Non è mia Però bella dai Anche l'interno non è male Però Vabbè Ragazzi scrivetemi nei commenti Se qualcuno di voi ha preso il season pass Ma io non lo prendo ragazzi Mi avete sconsigliato tantissimo di non prenderlo E perché dopo ragazzi Non lo userò manco mai Per quello Anche non lo prendo per quello Perché io non uso Rainbow Perfetto È venerdì alle 9.23 Perfetto Guardate ragazzi Allora Perché non me la c'è Perché non è il mio veicolo Però ragazzi Questo colore qua è bello A meno questa macchina qua Almeno quanto mi pare sia Tipo Una specie Di Quelle macchine vecchie Che Ci sono qua in Italia Ragazzi Ma perché sospendi i semafori Ok Tipo Le macchine vecchie Che ci sono Che c'erano una volta Tipo Specie così ragazzi Non fa niente Perfetto ragazzi Allora volevo dirvi anche Che Uscirà la seconda parte Del film La stiamo registrando E Penso uscirà bene Perché l'altro è uscito male Vabbè ragazzi Vi dirò un altro Tutto Vi dirò tutto In un altro vlog Fra poco Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto Vi dirò un bel piaccio Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto Ragazzi Passate la voce Tutti Siamo già 36 iscritti Ragazzi Se arriviamo a 40 iscritti Facciamo lo speciale Quindi ragazzi Speriamo di arrivare a 100 E noi ragazzi Allora ci vediamo Al prossimo Speriamo di arrivare a 100